Come si occupa di ricerca in campo vitivinicolo? Crediamo molto come azienda che il rapporto con i centri di ricerca, con l'università e con tutti i partner che possono dare un contributo innovativo importante in questo settore sono fondamentali per migliorare notevolmente la competitività delle aziende vitivinicole che sono le aziende del settore agricolo che hanno un forte valore aggiunto sul prodotto finito. Quindi sono le aziende prime tra tutte che possono investire importanti risorse nell'utilizzo di queste tecnologie per aumentare la competitività ormai a livello internazionale.